Lo scorso sabato 22 giugno in piazza Lucia Santa Maria di Castellabate si è tenuta la proiezione e la cerimonia di premiazione dei video realizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Castellabate per la prima edizione del progetto Castellabate Film Festival. I bambini hanno vissuto durante il pomeriggio il villaggio del cinema, allestito per l'occasione e animato dalla NAPI Animazione. L'iniziativa è stata realizzata dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune e portata avanti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Castellabate e la Film Studio di Gianni Pietrizzo. Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei cortometraggi e degli spot nel corso dell'anno scolastico. I temi dei video, ben sette cortometraggi e nove spot, hanno lanciato messaggi universali quali l'amicizia, l'ambiente e l'inclusione. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Costabile Spinelli e dall'assessore alla pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli. Devo dire veramente un grande successo perché tocca, coinvolge poi i temi che sono stati trattati importanti dall'ambiente, all'inclusione, al web, insomma temi attuali importanti che insomma toccano tutti quanti. Allora io veramente questa sera sono molto soddisfatto, contento della riuscita di questo evento, di questa manifestazione, vedere tanti bambini qui e partecipare in maniera attiva e poi immedesimarsi, ecco scrivere e immedesimarsi nel raccontare la loro storia è una cosa bella, è una cosa che riempie il cuore veramente di gioia e di emozioni. Abbiamo visto anche qualche immagine di plessi scolastici, insomma in questi giorni possiamo anche dare notizia. Stiamo lavorando per dare anche dei plessi e degli ambienti scolastici più confacenti e più attuali e più moderni a questi ragazzi. Questo progetto è stato mosso fondamentalmente dalla volontà di educare attraverso il cinema, quindi trattare dei temi importanti, magari in modo ludico, più semplice, che però riescano a scalfire le anime di questi bambini. Quindi mi auguro che Castellabate Film Festival abbia una lunga vita e che magari anche qualcun altro in futuro segua le orme di questo festival. Qualcuno ha detto che il senso morale di una società si basa su quello che viene fatto per i bambini, quindi penso che da questo si può partire e come potete appunto vedere l'interesse per i più piccoli è al centro dell'amministrazione, quindi viene curato. Io devo dire grazie chiaramente anche all'Aggiunta che mi ha appoggiato in questo progetto e grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato, davvero a tutti, le insegnanti, la dirigente, Gianni, Petrizzo, grazie a tutti perché senza sinergia non si riesce ad ottenere nulla o quantomeno non una manifestazione di questa portata. Coinvolgere più di 500 alunni è stato impegnativo. A vincere il trofeo Castellabate per la sezione infanzia lo spot numero 6 dal titolo Un gioco magico. Il trofeo Flora Guida è stato assegnato al miglior attore dello spot numero 2 e il trofeo Flora Guida la migliore attrice dello spot numero 4. Per quanto riguarda invece la sezione primaria classe prima e seconda, il trofeo Castellabate se lo è aggiudicato lo spot numero 7 con l'eredità. Il trofeo Flora Guida invece è andato al miglior attore dello spot numero 8 e ancora trofeo Flora Guida per la migliore attrice dello spot numero 9. Per la sezione primaria classe terza, quarta e quinta elementare, il trofeo Castellabate se lo è aggiudicato il corto numero 4 con Noi siamo con te e ancora trofeo Flora Guida per la migliore attrice dello spot numero 1. Per la sezione secondaria il trofeo Castellabate lo ha vinto il corto numero 6 con il salto nella vita reale. A vincere il trofeo Flora Guida migliore attore e migliore attrice lo spot numero 6.